Scusate la volta! Vai! 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 La pette è una madre! Quindi a te lo prendiamo tutti! Forse! 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 Vai! Forse! Forse! Si! Forse! 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 Come a te lo prendiamo! In piedi! Coffi! Perfetto! Ma il Chiricte è venuto! la sua ammolica lo prese, Sì! No! Poi! I campani! Ragazzi! Andate! Alla la campani! L'è una campani. La campani! il diretto di cronaca lo sapete si chiama la dottoressa Guadagno chiamate chi è pulito bastate lontanare